Di nuovo in onda terza parte della nostra rassegna stampa pomeridiana in chiusura del blocco precedente abbiamo visto la classifica e i risultati della promozione a Gironea dopo 27 partite. Andiamo ora però ad analizzare i singoli match e partiamo dalla vetta della classifica ci occupiamo ovviamente del Nettuno che ha vinto ancora una volta contro Santa Marinella 58 punti 10 lunghezze appunto di distanza dalle inseguitrici e parliamo Gabriele di una squadra che al momento è ancora imbattuta. Viene da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite insomma sono tutti numeri che testimoniano la forza di questa squadra che si sta giudicando un Girone ormai senza troppe difficoltà. Sì difficoltà ce ne sono state nel corso di questa stagione ma credo che ormai siamo in direttura di arrivo per il Nettuno che nel momento topico ha saputo anche rinforzarsi quindi approfittare di un grande inizio di campionato per certi versi anche inaspettato perché la società mirava a fare una buona stagione ma senza magari l'ansia degli anni passati di dover per forza vincere dover fare il salto di categoria. Questo secondo me ha aiutato perché la squadra anche l'allenatore giovane ma preparato come Catanzani sono stati tranquilli hanno potuto lavorare con serenità e si sono trovati a metà stagione in testa della classifica. Poi la squadra è stata rinforzata e adesso sta andando a gonfie vele dieci punti di distacco non sono quelli che ha la lupa Castelli in eccellenza ma in un Girone dove diciamo prima, seconda, terza sono sempre state separate da uno, due punti, poco altro. Averne dieci adesso vuol dire proprio essere quasi arrivati. Ecco tra l'altro anche analizzando i numeri della stagione insomma sembra difficile ipotizzare un crollo di questa squadra che anche nei momenti complicati magari con un pareggio riusciva comunque a fare il risultato. Per cui ecco per queste ragioni sembra logica la convinzione che alla fine si aggiudicherà il Girone appunto a della promozione. In classifica fa un salto importante anche il Ceglia al Lido dei Pini che a questo punto ha 4 a 39 punti, ha 6 lunghezze dal quarto posto, può magari tentare un finale di stagione importante. Nelle ultime quattro partite, due le sconfitte, due le vittorie, ma parliamo di queste due vittorie ottenute con 0 gol subiti e 3 fatti. Quindi sembra aver trovato una quadratura importante la squadra del Lido dei Pini, forse proprio da questi ultimi due match deve costruire il suo finale di stagione. Sì, hai detto bene, si può fare qualcosa di grande in queste ultime giornate proprio perché davanti c'è molta altalenanza, lo vediamo nel Focene. Sesse Almas e città di Fiumicino adesso è un periodo che si stanno vincendo, però poi hanno rallentato, quindi non hanno un andamento costante. Lido dei Pini adesso è in forma, come spesso accade in primavera, da il meglio, anche per il solito discorso del campo, del terreno, che permette di sviluppare quel gioco che vuole panicci. Ed è importante anche il discorso dei gol che non stanno prendendo, quindi in questo momento Lido dei Pini se ci crede può fare qualcosa di importante, può arrivare credo anche al quarto o terzo posto. Bisognerà però inanellare una serie di altre vittorie importanti. Chi è riuscito ad inanellare una vittoria importante è il team Nuova Florida, dopo tante sconfitte consecutive arrivano questi tre punti in trasferta sul campo dell'Ostia Antica, notoriamente insomma non facilissimo, anche se l'Ostia Antica quest'anno magari ha qualche difficoltà di classifica. 1-0 il punteggio del match, come è andata? Ce lo racconti? Sì, lo dicevamo la settimana scorsa, il team Nuova Florida veniva da una serie molto negativa di cinque sconfitte, bisognava invertire la rotta immediatamente per non rischiare qualcosa di grosso dopo una stagione incredibile nella quale è stata sicuramente la sorpresa di questo girono di promozione. È riuscito a vincere sul campo dell'Ostia Antica che è sempre una squadra di qualità, ricordiamo, è un po' una mina vagante con tutti questi giovani, capita la partita che ti mettono sotto sul piano del gioco, sul piano dell'intensità, ma anche la partita in cui peccano di inesperienza, come giusto che sia, diciamo, per quanto riguarda i calciatori giovani. Partita sicuramente insidiosa, Nuova Florida l'ha vinta su un campo avverso, a suo modo con un gol, rischiando obiettivamente quindi poco, ha messo questi tre punti in cascina, diamo attenzione perché dietro continuano a correre in tanti e quindi bisognerà fare altri punti, credo che forse i 40 punti non basteranno per stare tranquilli, mancano sette giornate, bisognerà ancora fare vittorie importanti, specie in qualche sconto diretto, contro qualche squadra che si trova dietro. Quindi bisognerà tenere alta sicuramente l'attenzione, così come lo stesso discorso vale anche per l'Unipo Mezzia Virtus che ha pareggiato, ha ottenuto il terzo risultato utile consecutivo, in questo caso possiamo parlare insomma di un elemento positivo visto la stagione altalenante proprio dell'Unipo Mezzia, ma bisognerà avere un po' più di concretezza in questo finale di stagione, Gabriele? Sì, il discorso che si può fare per l'Unipo Mezzia, diciamo, è più o meno lo stesso del team Nuova Florida. L'Unipo Mezzia ha avuto forse una stagione un po' più travagliata rispetto al Nuova Florida per il discorso del cambio all'obiettivo a metà stagione, cambi di panchina, adesso c'è stato l'ultimo, però da due giornate stanno andando bene, una vittoria una sconfitta, tra l'altro è venuto a giocare queste ultime partite all'Unipo Mezzia, una vecchia conoscenza del calcio di Pomezzia, Corrado Zanchi, che aveva smesso da qualche anno, è stato chiamato insomma dagli amici, l'hanno convinto per dare una mano, indubbiamente un giocatore di razza che ha fatto, se lo ricorderanno insomma tutti, ha giocato a Pomezzia e quindi darà sicuramente una grossa mano, ha fatto anche l'esordio, ha una buona prestazione, niente di che, ricordiamo che nonostante sia Zanchi avrà bisogno un attimo di riprendere il ritmo partita, giustamente un lungo periodo di inattività. E allora vedremo se riuscirà a rientrare sui livelli di gioco che lo hanno reso famoso nella città di Pomezzia, intanto andiamo ad occuparci anche della prima categoria del Girone F, vediamo insieme i risultati dopo la ventitresima giornata di campionato, a Irone Arde ancora una sconfitta sonora 4-0 contro l'Atletico Lariano, il Città di Aprilia perde 5-1 in trasferta contro la Junior Portuense, il Città di Pomezzia perde con lo stesso punteggio in casa dello Sporting Genzano, mentre vince la sua partita casalinga Virtus Nettuno contro l'Atletico Torbella Monaca col punteggio di 2-0 in vetta, il Cori conferma con un successo per 3-2 sul campo di Montello. Vediamo allora appunto i numeri, Cori a 65 punti, Fortitudo Calcio Roma a 47, più staccato il Frascati a 43, per quanto riguarda la Virtus Nettuno la troviamo a centro classifica, quota 36 punti, Città di Pomezzia nella seconda metà di classifica a 28, e l'Airone Arde a quota 27, chiude il Città di Aprilia a quota 11. Andiamo ad occuparci delle singole partite, l'Airone Ardea è in un momento abbastanza complicato, in quattro partite ha subito la bellezza di 17 reti, sono davvero tante una vittoria e tre le sconfitte, questo il rollino di marcia che non è certamente esaltante. Assolutamente no, la settimana scorsa c'era stata una vittoria, sembrava che il peggio fosse passato, insomma dopo due goleade prese con Cori e Torbella Monaca, adesso arriva un'altra sconfitta molto pesante con il Lariano, se non erro, con la Teteco Lariano, che è una di quelle squadre che poteva fare qualcosa in più in questo campionato, ricordiamo vincitrice della Coppa Lazio seconda categoria dell'anno scorso, proprio contro il Cori, una delle poche che ha fatto punti con il Cori quest'anno, perché ha pareggiato, se non mi sbaglio, nel girone di andata con la capolista. Al di là della forza dell'Ariano, l'Aeroniard deve stare attento, perché la classifica comincia a diventare pericolante, e poi soprattutto se c'è questa penetrabilità difensiva al termine della stagione, con le squadre che hanno bisogno di punti, che faranno le partite della vita, diventa problematico come fatto. Può essere un problema mentale, quello dei tanti gol subiti, magari viste le numerose goleate subite negli ultimi quattro match, magari al momento in cui si va sotto, subentra qualcosa nella testa dei giocatori. Guarda, secondo me bisogna cercare di non abituarsi a questo tipo di sconfitte, perché diventa quasi una routine. Preso uno, preso il secondo gol, poi diventa quasi automatico aspettarsi questo tipo di diesito nella partita. Bisogna in questa fase cercare di ribellarsi a questa situazione, mettere in campo qualcosa in più. Parlo dei giovani, ma soprattutto dei giocatori di esperienza. Pochi ce ne sono quest'anno nell'Aerone, ma comunque hanno tirato sul gruppo. Saranno loro, credo, che dovranno dare la scossa, quella energia in grado di invertire un po' la tendenza delle ultime giornate. Tra pochissimo parleremo anche del Città di Pomezia. Prima però un po' di pubblicità e torneremo subito con voi. Grazie. Grazie. Grazie.